ringraziare l'utilizzatore e il presidente qui vicino a noi e auguriamo a tutti una bellissima giornata da passare ovviamente tutti insieme in Vespa grazie e poi vi chiedo un grosso e grosso applauso per i soci del Vespa Club Benemedi che stanno lavorando come in merito a un grosso applauso tutti i soci le moglie dei soci che più non restano iscritte quindi grazie e sì a chi è che sta rimando